Presidente Marsilio, finisce a Roma un giro nato e mi permetto di dire molto bene in Abruzzo. Sì, è stata un'edizione magnifica, per noi è stata un'enorme occasione di promozione di visibilità a distanza di settimane dal passaggio del giro e dalla sua grande partenza. Tutti gli operatori turistici e tutto il territorio sta sentendo forte il ritorno di questa grande promozione pubblicitaria. Ora si tratta di lavorarci sopra, coltivare questo terreno che abbiamo reso fertile, che abbiamo dissodato e metterci sopra il resto, a cominciare dalla capacità, che non dubito ci sarà, di accoglienza, di essere all'altezza della grande aspettativa che si è creata. Costa dei Trabocchi, uno degli aspetti più belli di questo Giro d'Italia? Non c'è dubbio, credo che paesagisticamente la scoperta della Costa dei Trabocchi, una costa poco conosciuta dal resto d'Italia e a livello internazionale, sia stata davvero la sorpresa di questo Giro e quindi abbiamo fatto bene ad investire fortemente su questa opportunità, su questa possibilità. Torno a ringraziare ovviamente il gruppo RCS, gli organizzatori del Giro, per essersi lasciati di affascinare e contagiare dalla proposta che insieme al mitico Maurizio Formichetti gli abbiamo proposto, descrivendo la bellezza del territorio e l'opportunità che quella pista offre anche di una prestazione agonistica, perché naturalmente il Giro non è soltanto promozione turistica, è prima di tutto un grande evento sportivo e noi dobbiamo mettere insieme l'uno e l'altro, compreso appunto il livello agonistico del Giro d'Italia. Ecco, il Giro arriverà almeno per i prossimi due anni a Roma, c'è un contratto triennale con la Capitale, c'è la possibilità che l'Abruzzo diventi la regione decisiva per il Giro d'Italia in futuro? Diciamo che nel recente passato lo è stato, perché le ultime due edizioni hanno visto vincere il Giro quelli che si sono resi protagonisti delle tappe in Abruzzo. Quest'anno magari ci aspettavamo più competizione e una sfida più aperta sulla tappa di Campo Imperatore, non è stato così, però se non ci fosse stato il Covid penso che avremmo potuto anche quest'anno dire che chi aveva preso la maglia rosa in Abruzzo, cioè Venepol, con una trionfale cavalcata che aveva tagliato le gambe un po' a tutti, io credo che anche la prudenza dei suoi avversari sul campo Imperatore fosse dovuta al fatto che Venepol era in forma straordinaria, lo ha dimostrato anche mettendoli tutti in fila, arrivando quarto, regolando il gruppo degli inseguitori dopo il terzetto, arrivato in fuga e quindi la paura di essere poi magari strapazzati da un avversario che in quel momento non era affrontabile, li ha magari tenuti fermi, però sono quasi certo del fatto che se non avesse preso il Covid oggi Venepol avrebbe vinto il Giro, avremmo potuto dire ha preso la maglia rosa in Abruzzo e la riporta a Roma all'ultima tappa. Le chiedo un'ultima cosa Presidente, perché oramai è sulla bocca di tutti la possibilità di Avezzano, la terra di Vito Taccone nel prossimo anno, può fare chiarezza se sarà un acronometro, se sarà una tappa, se ci sarà anche un tappone appenninico come piace lei? No, non possiamo fare chiarezza perché non siamo noi che organizziamo il Giro d'Italia, noi possiamo proporre, possiamo mediare con il territorio per cercare di fare sintesi tra le tante diverse proposte che arrivano al Giro, quindi finito il Giro, dato magari respiro agli organizzatori che si prendono la loro giusta pausa di riposo e di riflessione, affronteremo più nel dettaglio le proposte, io sono stato ad Avezzano, ho parlato con il figlio del grande Taccone, loro hanno una proposta che hanno anche formalizzato, inviandola insieme all'amministrazione di un acronometro del Fucino, che è una delle possibilità, lavoreremo intorno anche a questa proposta e a questa possibilità, però ci siamo presi un impegno di proporre in maniera forte, in ogni caso, un qualche cosa, un passaggio, una tappa che abbia nella memoria e nella figura di Taccone un punto di riferimento, poi vediamo se sarà di un tipo o di un altro, però l'impegno c'è e nei prossimi giorni ne parleremo con gli organizzatori. L'ultima è il tappone? Siamo anche qui per questo. Il tappone? Il tappone, ripeto, anche lì vediamo, perché poi nelle ultime edizioni in Abruzzo non abbiamo fatto una sola tappa o una tappa di passaggio, quindi ci sono state annate in cui abbiamo fatto due tappe, tre giornate con il riposo, quindi possiamo cercare di inserire diverse possibili soluzioni, ci lavoriamo un po', diciamo che stiamo lavorando su qualche soluzione un po' inedita e cercheremo anche questa volta di stupirvi.